Sabato 3 agosto si terrà presso il circolo della stampa di Avellino la mostra Le foto della prima guerra mondiale, realizzata dall'imprenditore irpino Pantaleone Dentice, un racconto tratto dal diario del magistrato Coglielmo Sabelli, ufficiale del primo corpo di completamento della giustizia militare del reale esercito. La ricostruzione del personaggio irpino dell'Ottocento è stata realizzata grazie all'impegno dell'imprenditore che, attraverso un lavoro di ricerche e assemblamento di fonti storiche, ha portato alla luce alcune reliquie, le quali interessano alcune fasi della vita del magistrato. Interverranno all'evento il sindaco di Avellino Geluca Festa, il docente di storia Carmine Montella, il presidente Umple Avellino Giuseppe Silvestri, il presidente associazione nazionale combattenti e arredici Gerardo Moschilla e il pronipote del magistrato Rodolfo Sabelli. Ho trovato tutta 19 foto inedite, addirittura della ricostruzione della mamma e del padre e tutta la storia che lui ha vissuto da piccolo, poi quando si è arruolato, fino ad arrivare ai giorni che era un magistrato. Tutto questo lavoro quanto è importante per la comunità irpina, quanto è importante venire a conoscenza di queste reliquie storie? Oltre a delle fotografie ci sarà qualcosa altro? Oltre alle fotografie ci sarà anche un city car, un city car quindi come diciamo una situazione attrattiva e in più due eliche di un B52 che adesso è fuori produzione per cui diciamo teniamo una situazione fuori più soft all'ingresso e teniamo una situazione storica dal 1800 ad oggi della famiglia Guglielmo Sabelli.